I giovani di Confagricoltura fondamentalmente si formano, intanto comprendono giovani dai 16 ai 40 anni ed è un po' la scuola per la futura dirigenza di Confagricoltura. Si occupano principalmente di formazione sia a livello nazionale che regionale e provinciale a tutti i livelli e riguardante a tanti argomenti come può essere corsi di comunicazione, corsi di formazione tecnica. Su magari fertilizzanti, su prodotti innovativi, sul biologico, su tantissime cose accano. Quanti tipi di cipolla vengono prodotti nel nostro territorio miliano-romagnolo? Tutti i tipi, dalla bianca alla dorata alla rossa. Quali sono le differenze tra i vari tipi di prodotto? Principalmente le gialle vengono utilizzate per sughi e soffritti, le bianche per le cotture a forno e le rosse per le insalate, quindi anche crude. E' adatta a tutti, anche perché fa bene, è ricca di vitamine, di salio minerali e di principi antibiotici, quindi perché no?